Mettetevi un like sotto questo video e iscrivetevi al canale se non è ancora fatto perchè questo video è veramente epico Ciao a tutti, io sono Luisa e oggi siamo in un nuovo video Dobbiamo correre perchè oggi io e la mia amica Adri abbiamo da fare due prank a Valerio Quindi doppio prank, dobbiamo sbrigarci assolutamente Vi diciamo solo al volo, mettete un bel mi piace sotto questo video per supportarci E iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto e andiamo a prepararci Il primo scherzo sarà indispensabile per il secondo e sarà un compito di Adri perchè dovrà andare da Vale e fare tipo coming out Dicendogli di essere bisex, non è vero Adri non è bisex, è etero Noi ovviamente non abbiamo nulla contro la comunità LGBT ma questa cosa sarà fondamentale per poi far credere a Vale il secondo prank Ovvero che io e Adri abbiamo qualcosa insomma, che bolle in pentola come dire Quindi adesso io e Adri cerchiamo il modo migliore e il momento migliore per confessare questo segreto assurdo a Vale e iniziamo Io e Adri abbiamo posizionato il telefono nel modo più nascosto possibile Abbiamo anche posizionato le sete per il discorso tra Vale e Adri Io non ci potrò essere altrimenti Vale sicuramente penserebbe male Quindi spero tantissimo che vada tutto bene e Adri affido tutto quanto a te quindi Stop Io vado a macchermi Allora Vale ci ho portato qua il giardino perchè ti volevo dire una cosa abbastanza importante Vai dimmi Allora Tu non so se hai notato qualche cambiamento nel modo più in fondo in questo periodo oppure Che senso Cioè come iniziato a vestirmi Come Mi piace sto stile Figa Ehm Volevo dirti che ho iniziato ad avere Stai dicendo Cerca di essere chiara ma non sto capendo niente Tu hai dei gusti Infatto A te piacciono le ragazze Sì A me Per il te lo piacere anche le ragazze Mi stai prendendo in giro no è vero No Non ti piacevo io No No? No Sei sicura di ciò? Mi piacciono le ragazze e le ragazze Veramente A parte scherzi veramente Ma ok Non l'avevo mai detto Però va bene Ci sta Sei felice di questa cosa? E sei felice tu? A me mi fa piacere Cioè tranquilla Cioè non mi dà assurdo Niente fastidio altro Cioè anzi Sono felicissimo che Se è vero Hai deciso di aprirti come in questa cosa Cioè sei tranquilla Non è che il nostro rapporto cambierà in qualche modo Anzi Ma benissimo Della fine E grazie Di niente amore Ma lui sa già Che l'ha detto? Sa qualcosa Ma no Hai detto Viene cosa servizia che a me Sei la peggiora Vabbè a me però potrei dirlo Sto scherzando Sto scherzando Vindi Quindi vale Sentiamo Cosa ne pensi di schicare? Mi piace Ti ho detto Stai forte Ci sta questo nuovo stile Ma è bellissimo Ma infatti lo adoro Ma sta camicia Da quando l'hai presa? Ah da poco È bellissima Infatti sì Adesso ci scambiamo i vestiti Quindi Mai I miei vestiti I miei giame li rubi sempre Questa è normale Però i miei sono miei E dai Sto la camicia me la presterai qualche volta No mai Invece sì Sarà mia Credimi No 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 Credimi sarà mia Troppo bella Andai a mangiare qualcosa Affamici Vai andiamo Il primo scherzo è andato Cioè io non posso credere A come Vale ci sia cascato Cioè Adris è stata un'attrice perfetta Però adesso dobbiamo fare il secondo Che deve essere una cosa molto slowly Perché se dovessimo fare così improvvisamente Da che tu gli hai detto di essere bisex Poi ci provi con me subito Lui insomma ci sgamerebbe Perché infatti quello che andremo a fare adesso È che Adris ci proverà con me davanti a Vale In vari modi Così sarà piuttosto esplicita Quindi adesso pensiamo un po' ai modi per farlo Billy Billy mi ha distrutto Billy mi ha distrutto Come va? Va bene a parte Billy le mangia Uno, due, tre Ma perché Billy è pazzo? Billy è pazzo Billy Stai chiuso un po' Ma poi vi alzco il fletto E' un'altra E' un pazzo Vai Vai Vieni più vicino a me Non so se si c'è da me Lo sono scaldato Vai Vai Oddio 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 È tutto bene Sei fatto male Non voglio farlo Ma sei scema Ma l'abbè Ma l'abbè È un po' È un po' Si è fatto male Ma va l'abbè Mi hai fatto male Ti hai fatto male Billy Billy Dai Billy vai tu Dai vai tu Billy! 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 No, vuole stare con voi. Billy, amore! No, vuole fare! Non vedo questo! Vediamo, dammi un campanino. Sì, sì, ma non ho visto pensare a meditare. Ma come no? No, forse tra un po' di un giro, no? Sì, esattamente. Dove è andata? Fa un po' di un giro, nel passato che andiamo a prendere qualcosa. Sì, mi fa vedere che andranno i sensi. A me non mi dite pare quando venire. Tranquile, non voglio venire. Vale, ma quindi a te ne ho detto che ti ha parlato oggi. Sì. Esattamente un momento. Yes. Non mi dico. Ma a te quanto te l'abbia detto? Beh, anche già da un mesetto. Da un mesetto, Ari, sei la peggiore! Veramente è un mese che li stavo sapendo che io no. Ma non ti fidami di me, cos'è? No, no, non è questo, è che lo sentite sicura che è un grande di affidermi con il fatto. Per ora sapevi che io sono una persona mega soft. Non lo so, però! Vabbè, dai, ci sta. Non è una cosa leggera, ma lo sento è importante. No, lo so, lo so, non sto dicendo che sto dicendo. Credo di averti dimostrato che sono una persona molto aperta mentalmente. perché non avrei mai voluto avere una brutta reazione nel senso. Ok. Vabbè, dai, che ci dici da qualche film d'amore? Sì. Perfino. No. Danico. Danico, no, raga. Centa volte l'abbiamo visto, basta. Ah, bellissima? Vabbè, l'altro oggi è bellissimo. Sì, io è ricco, fa paura. La maglia mi sembrava come ganna di stelle. Ma guarda che lì sei molto bello adesso. Amore, grazie. Non sei solito. Scherzando, sei tanto bellissima. No, non sei solito. Mi fa anche TikTok. No, no, no. No, Andri. Mi sai. Ok, dai. Se l'entrata in un lento. Eh, voglio vedere. Dai, no. No, è solito. Mi sa te lo faccio io. Mi sa. Mi sa. Mi sa. Mi sa. Mi sa. Ma fa qualche balletto. Mi senti qualche balletto? Qualcosa? 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 Non lo so. Un lento, direi. Un lento, direi. Dicono a baciarsi. Vediamo. Vale, allora. Io non la so fare a baciare la mia collezione. Io la so fare, sì. Vai. Non mi scoccio. Ma perché mi scocci? Non mi scocci. Si scocci. No, vale. Ma ci sono di te. Vale. Come pensavo di aprire un po' di 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 un po'? Ma come devi scherzare? Va bene insegnare. Va bene insegnare. Dopo ne ha detto bene di insegnare. Devi farle di un po' 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 di un po'. Non magari si so. Non mi scendi. Aspettiamoci. Io mi chiedo sul divano perché delestino fittacolo. Vieni Ade. Ade sei buono. Ah, mi siete scendendo!! Anche per cui non miantenete il po' di un 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 po'. Ciao bello. No ti giuro. Mi ha andato. Oh no no! Non mi sono fatto male, è vero! Non mi sono fatto male, va bene! Mi ha spesso. E mi dà bastide dai anni fa. E di consideredare il mio paracamento? Chi deve toccare? C'è la mia pastiglia! Chi sa ma non trova niente per prendere il pastiglio e la prendere le peccate Ma non è più certo a fare i sentimenti, la faccia di decidere Vuoi le farlo quella qua? Io la faccio, no? No? Lei ve la fai in camera dopo Dopo le farò la fai in camera Sì, va bene, dove ti insegnare? Oh, lui se la fai la guapo in giro, ti pago 100 euro se me la fai vedere Non la posso vedere, però il profilo è insieme e poi io la posso vedere Oh! Chi sono? Vabbè, 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 dai, non ci pensare, ma prima un po' Non devi fare niente Ma ora sono libera Dai, c'è Andrea che ti chiama, vedi Andrea Ma non è vera, dove stanno? Lei è mia amica, vogliamo stare qui insieme Tu c'hai Andrea che è il tuo miglior amico e stai anche con lui Andrea, che è bene, vai da qui voi Beh, che stai cacciando? Beh, è il momento per le donne questo Ma che momento per le donne? Ma che stai facendo? Non mi pare che stai mettendo lo smalto O queste cose qua Ma di che amici questa donna? C'è l'altro tanto mi spessi lo smalto Vabbè, la stai in voglia Bacione Ci vediamo più tardi Ciao 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 Ma stai in voglia Ma hai fatto te Ma hai fatto te Abbiamo riagestato il telefono e adesso dobbiamo scendere Vale con qualche pretesto E gli daremo proprio il colpo finale di rimobbiliare e stare insieme Vediamo come va, è un po' credibile però ci puoi Vale Dai, scegli Dai, sono per il bambino C'è la mano Il sore Bene dai, scegli di tutti abbiamo per il suo treno Bene No Io Sì, vieni qua No, vieni qua Avanzi che mi devi andare devi andare a levare quella clip se no me non ne si accorga è scemo come si ha messo a paura mazzera quanto tempo sta di prendermi zero non posso mai creare ma mi soppre prima ma mi soppre prima è la questione ma lei non lo sai che io sono etero lo scherzo è mega riuscito meglio di così non poteva venire infatti siamo stati top ma non è mai riuscito invece è riuscitissimo quindi vale io e adri stiamo insieme tra l'altro ero sicuro che era uno scherzo perché adri c'era innamorata di me potevamo essere adesso valeva un attimo a parcheggiarsi e comunque il video di oggi finisce qua mi piace perché veramente siamo impegnate tantissimo ricordatevi che per iscrivervi al canale è facilissimo basta cliccare in questo pallino e vedete questo video e anche quest'altro video sono super super belli e al prossimo video ciao 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 ciao